Un trio di barzellette sul divertente e lato sacro della vita. Mose, e Gesù, decidono di fare una partita a golf. Arrivati al buco 9, c'è, un laghetto. Gesù, dice, visto che sono Gesù, posso camminare sull'acqua, giusto? Mose, risponde, certo, vai. Gesù, ci prova, ma finisce in acqua. Mose, ridendo dice, forse ti servirebbe un bastone da golf, come quello di Tiger Boots. Un prete e un taxista arrivano in cielo. San Pietro dà il taxista a una villa, allora il prete protesta. Io ho pregato, predicato, ho dedicato la mia vita a Dio e lui a una villa e io no. San Pietro risponde, guarda, qui abbiamo bisogno di risultati. Quando predicavi, la gente dormiva. Quando lui guidava, tutti pregavano. Una suora entra in gelateria e chiede un cono al cioccolato. Il gelataio, imbarazzato, dice, mi dispiace, suora, ma al cioccolato non ne abbiamo più. Possiamo offrirle alla vaniglia. La suora risponde, in effetti, meglio alla vaniglia. Il cioccolato mi sporca le mani e la gente potrebbe pensare male. Ha 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 ha! Hai ha ha ha!